Ciao a tutti, io sono Barbara, sono l'ultima arrivata qui a Scuola Tao, sono qua da più o meno aprile e devo dire che fin dall'inizio mi ha colpito l'atmosfera della scuola che è sia professionale sia umana, sia serena, quindi in un certo senso il lavoro è agevolato anche proprio dai rapporti che si possono creare tra le persone sia rispetto ai docenti sia rispetto agli studenti oltre che con i colleghi e in particolare oltre alla mia presenza durante la settimana essendoci il sabato mattina ho la possibilità anche di avere un contatto diretto con le persone, con gli iscritti e secondo me questo è un valore aggiunto a Scuola Tao perché oltre a rispondervi tramite mail, tramite telefono, siamo presenze che via via imparate a conoscere con cui si possono instaurare anche rapporti così di conoscenza, di scambio e questo sia con gli studenti sia anche con i docenti, quindi vi aspettiamo alla Scuola Tao. Grazie.